Finalmente ce l'ho fatta grazie alla ragazza della team che mi ha aggiustato il telefono Siamo qui in un posto bellissimo Siamo al Victory Morgan Bay, abbiamo fatto le foto di riso sulla pastorella E ora stiamo aspettando di cantare, prima mangiare poi cantare Il posto è bellissimo, io ho un vestitino della Peoples molto molto carino Quante Remo voglio vivere così, per cui sarà un'emozione grandissima Oggi abbiamo fatto Casa Sanremo, tutte le interviste, abbiamo fatto un sacco di cose Per cui vedrete poi domani perché appunto non funzionava il telefono, mannaggia la miseria Allora faccio vedere il posto Ecco qua Questo è il passaggio VIP Ho avuto un onore Per cui tra pochino quando canteremo poi rientremo in diretta Ecco qua, ora ci stanno chiamando Ci sono tutti i miei amici Salutate, siamo in diretta, siamo in diretta Massimo Bellissimi, tra un poco cantiamo qui a Morgana Ultima sera mia qui a Sanremo, lei dura ancora un altro giorno ma noi siamo qui Un bacione a tutti Quindi voglio vivere così Quindi per ora vediamo un attimino qua il locale Ciao Magari Massimo Ma tu cosa hai preso? Il tabolo? Non è bene, non è bene Tutti le prego No, io non lo vengo Non so tutti, è treppato Perché non è bene Grazie Il tabolo?